Buongiorno a tutti, oggi è martedì 10 marzo e parliamo di analisi ciclica voluta sul Fuzzimib. E' già una bella giornata per il fatto che i future sono passati da meno mille rotti punti, hanno cercato di prendere il stop a tutti quelli che si sono messi long, a più 115 punti ma sono stati anche a più 180, per cui la situazione sembra ritornare un pochino alla normalità. Ma occupiamoci di noi, occupiamoci di analisi ciclica voluta sul nostro indice. Come facciamo a sapere se questo è un T-3 che dà inizio a una nuova struttura e che si stacca quindi a quella nata qua sopra, figuratevi, il 26 febbraio denominata terzo T settimanale e vincolato completamente a ribasso? Molto semplicemente dovremmo andare a fare le valutazioni su swing e su inverso, come al solito, stessa identica cosa. L'evoluta ci permette di andare a fare degli short dopo delle discese fortissime, un po' come ieri. Sono, dà una sicurezza e una tranquillità in determinate operazioni che davvero non so quanti possono avere, però sono felice che ci siano altre tecniche che magari appunto permettono alle persone di realizzare stesse identiche cose. A ognuno la sua, la mia sicuramente ha una certa valenza ma non posso conoscere tutte le altre. Per cui, ottavo T-3, come facciamo a sapere se questo sarà il nono T-3 che quindi sarà piano piano vincolato a ribasso o riporterà verso il basso oppure se è un T-3 che ci porterà più verso l'alto e quindi verso media mobile a 50 periodi, livello inferiore della cumo e eventualmente sopra? Stessa identica cosa del solito, ovvero controllo sugli swing. In questo momento abbiamo i future che vanno a, erano a più 180, adesso sono solo più 80, quindi c'è una bella variabilità data dagli HFT. Per cui, facciamo le nostre considerazioni. Primo, da qui appunto, dopo tutta questa discesa è partito il nuovo T-3 perché abbiamo avuto ben più di un T-5, ovvero di un'ora e mezza a rialzo. Secondo, come siamo messi di inverso? Di inverso siamo messi così, che è molto probabile che qui stia partendo un sesto T-3 perché ricordiamoci che l'inverso è arrivato solo a 5 T-3 inversi, importante, e quindi deve ancora chiudere e chiudere quindi con potenzialmente rialzo, anche se può arrivare a 8, 9, 10, 11, quindi calma prima di trarre conclusioni che non sono tali. Per cui dobbiamo aspettarci un T-5 inverso a rialzo, ovvero a ribasso di indice. Qui ce l'abbiamo quasi avuto da questo massimo, ma abbiamo fatto 5 bar invece che 6, a volte possono bastare in caso di forti trend, quindi già qui vi segnalo la cosa. Ma in realtà, dato che subito dopo abbiamo fatto un massimo superiore e quindi mi interessa più quel massimo lì, è possibile che si sia arrivati da massimo a massimo a 35 bar su massimo a 44, quindi capite? Se si aprisse sopra, di nuovo riparte il conteggio per avere fino a un massimo di 44. Successivamente partirà di nuovo, appunto, come detto, un T-5 che deve essere rialzista per l'inverso e quindi ribassista per l'indice e potrebbe esserne qua una parte sostanzialmente, ok? Potremmo avere già avuto la prima e la seconda candela qua. Successivamente, in violazione di questo massimo, se fosse il caso, come appena detto, massimo a 18.955, faremo le nostre valutazioni per andare long, piuttosto che no. Ma la cosa divertente è che non sto dicendo tutto il contrario di tutto. Questo può sembrarlo a chi non conosce la ciclica voluta. A chi lo conosce, come avete visto ieri, è bastato uno swing inverso, ovvero minimo, a 18.718 per portarsi a casa circa 300 punti. C'è voluto tempo, ci sono state due candele un po' fastidiose nel frammezzo, ma ci siamo portati a casa 300 punti dopo questa discesa. Per cui, interessanti sono sempre i fatti, non altre cose. Se apriremo, come siamo per aprire teoricamente in questo momento, a 840, scusate, 18.842, creeremo appunto un massimo superiore prima di aver fatto il nostro T-5. Per cui ripartirà il conteggio da lì, si ritornerà a vedere se c'è una discesa di almeno un'ora e mezza, e poi, in caso di violazione dello swing, ovvero del massimo che verrà creato, magari in apertura, a quel punto lì valuteremo appunto il superiore long. Viceversa, abbiamo un primo controllo su un primo swing, su inverso, secondo, il nostro swing assoluto ha 18.346 punti, che però iniziano ad essere molto lontani, anche se qui sembrano vicinissimi. Ma ci sono 400 punti di distanza qua. Se volessi far vedere il grafico effettivamente com'è, è così. E' un po' diverso. Questo è il grafico attuale, ok? Così rende un pochino più l'idea della distanza che c'è tra 340 e 719. Per cui, noi abbiamo già impostato tutto. Vediamo che cosa si può fare, d'accordo? Vi ringrazio per l'attenzione, se l'analisi vi è piaciuta, sono felice, mettete un like. Sono felice anche per il fatto che, chi purtroppo magari azzardatamente sarà messo long il venerdì, probabilmente inizia a rivedere un minimo la luce. Buona giornata a tutti, per me sarà splendida, perché ho già deciso così.